Eras Verona e Venezia si affronteranno domani pomeriggio allo Stadio Bente Godi di Verona, nei derby valido per la 27esima giornata del campionato di calcio di Serie A, fischio di inizio alle 15, arbitro Sacchi. Per gli arancionero-verdi il compito di provare a cancellare la bruciante sconfitta per 4-3 maturata nella gara di andata al Penso, dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio per 3-0. Sono due squadre diverse ovviamente, con aspettative diverse, il Verona sta andando molto molto bene e di questo siamo contenti e il Venezia speriamo che si riprenda. Ultimamente sta un po' troppo balbettando. Ruzza non fa mistero per chi farà il tifo domani, ma sempre con grande fair play. Io spero che il mister Zanetti, che è molto molto bravo, riesca a trovare la quale. Comunque la speranza di tutti è che sia una bella partita, che sia una partita all'insegna del fair play e del rispetto e poi che vinca il migliore, il Venezia. Ecco, come vede la partita, un campione del mondo di Spagna 1982, Beppe Dossena. Una partita interessante. Due squadre che esprimono anche un buon calcio, due squadre che riescono anche a portare a casa risultati clamorosi. pronostico indecifrabile. Veramente una partita molto molto complicata per entrambe le squadre, però affascinante secondo me. Grazie. 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 Grazie.